Buongiorno, benvenuti al dibattito di Omnibus che oggi non può non essere dedicato a quello che sta succedendo in Libia. Allora, notizie freschissime non ce ne sono, nel senso che il bilancio è ancora quello della notte. Sono stati lanciati 112 missili cruise dalle navi dai sottomarini e forse anche dagli aerei della coalizione dei volenterosi da Gran Bretagna e da Stati Uniti, mentre gli aerei francesi hanno continuato i ride non solo su Benghazi ma dicono le fonti libiche anche su Tripoli dove sarebbero stati colpiti diversi obiettivi. Bilanci ancora non ce ne sono. L'azione è iniziata, lo ricordiamo, alle 17.45 di ieri pomeriggio quando un caccia-rafal francese ha colpito per la prima volta alcuni tank, almeno così sono stati descritti, delle forze fedeli al colonnello Gheddafi nella zona di Benghazi. È iniziata con questa azione l'intervento degli appunto volenterosi paesi che si sono riuniti per far rispettare su richiesta delle Nazioni Unite il rispetto delle popolazioni civili colpite appunto dagli uomini del colonnello. Colonnello che peraltro accusa adesso è un atto di neocolonialismo, minaccia, colpiremo in tutto il Mediterraneo anche noi i civili. Insomma la situazione è una situazione di guerra nel Mediterraneo. Vi presento subito gli ospiti con i quali approfondiremo oggi questa discussione. Buongiorno a Gianni De Michelis, presidente dell'Ipalmo. Buongiorno a Ermete Realacci, deputato del Partito Democratico. Buongiorno a Pia Luisa Bianco che è consigliere del ministro degli esteri Frattini. Buongiorno a Gennaro Migliore, sinistra Ecologia e Libertà. Buongiorno al professor Luigi Paganetto che è presidente della Fondazione di Economia dell'Università Romana di Tor Vergata. Doveva essere con noi anche il sottosegretario della difesa a Crosetto ma naturalmente queste ore sono ore complicate per chi gestisce anche politicamente la macchina militare italiana e quindi Crosetto non è con noi. Allora l'intervento è arrivato alla fine, onorevole De Michelis, come dire, con un dibattito politico che in Italia ha visto contrarie la Lega e all'inizio l'Italia dei Valori che ieri ha cambiato posizione, oltre fuori dal Parlamento sinistra Ecologia e Libertà, ma poi sarà migliore che ci spiegherà meglio. Nei tempi, cioè, come dire, può essere ancora efficace questo intervento? Da quel che sappiamo Gheddafi era oramai alle porte della Roccaforte, della capitale, chiamiamola così, dei ribelli? Sì, sotto il profilo militare non c'era il minimo dubbio che il vantaggio di Gheddafi rispetto ai cosiddetti rivoltosi era incommensurabile e al tempo stesso io non ho mai avuto dubbi che la posizione che alla fine la comunità internazionale aveva già preso, credo tre settimane fa, col primo voto unanime del Consiglio di Sicurezza, col voto unanime dell'Assemblea Generale fosse quella giusta. Non c'era il minimo dubbio e tra l'altro non ho capito certe esitazioni che sono avvenute in Italia, in Europa e così via, perché non mi sembrano incomprensibili rispetto alla sostanza della questione e la sostanza della questione è che le vicende libiche sono esattamente della stessa natura di quelle tunisine e di quelle egiziane e dovremo una buona volta fare una discussione e capire che significato hanno questi sommovimenti che riguardano tutta la praticamente non solo questi paesi che ho citato ma tutto il mondo, ma tutto il mondo arabo-islamico e dare un giudizio su questo. Io il mio giudizio, l'ho detto in questi giorni a chi voleva ascoltarmi, è stato chiarissimo, è un'occasione straordinaria, un'opportunità gigantesca che non può non essere non colta e naturalmente era evidente che se noi avessimo lasciato Gheddafi con la sua superiorità militare schiacciare i cosiddetti rivoltosi, questo sarebbe stato un segnale negativo enorme rispetto all'atteggiamento non solo del cosiddetto occidente ma praticamente di tutta la comunità internazionale, quindi per fortuna è venuto, io personalmente non avevo dubbi che sarebbe venuto, quindi non ho mai pensato come taluni degli ipocriti e dei suadi sang realisti europei o nostrani pensavano che la Russia e la Cina avrebbero messo il vetro e così via perché la partita era troppo forte in gioco e naturalmente tenendo conto, poi dovremmo fare un discorso tra di noi su quello che riguarda gli specifici interessi nazionali dell'Italia in Libia che non sono solo quelli dell'energia, economici e così via ma sono gli interessi, come si può dire, del paese che è il più vicino alla Libia, che sarà influenzato nel suo futuro direttamente da quello che avverrà in Libia ed è evidente, di nuovo lo dico in maniera sintetica, che noi abbiamo interesse a una Libia più democratica, abbiamo interesse a una Libia più stabile, abbiamo interesse a una Libia meno somala, dovremmo ricordarci qualcosa perché anche lì una certa qual responsabilità l'Italia della seconda repubblica l'ha avuta rispetto all'evoluzione della Somalia, solo che la Somalia è lontana, il fatto che non all'inizio... E non ha petrolio? No, non solo non ha petrolio ma... Anche questo conta, eh? Sì, però quello che conta di più è che all'inizio non c'era Al-Qaeda in Somalia, tra i fattori che hanno portato alla desegrazione di quel paese, oggi c'è Al-Qaeda. Non credo che Al-Qaeda ci sia in Libia, come dice il colonnello strumentalmente, ma sicuramente se la situazione in Libia dovesse continuare nel caos e così via, prima o poi ci sarà. Quindi è opportuno l'intervento? Certo, assolutamente. Realacci? L'intervento militare, un'azione militare è sempre una cosa drammatica, che non va fatta a cuor leggero, bisogna capire però se in questo momento era meglio l'indifferenza o è l'intervento, io penso sia meglio l'intervento, vorrei fare un passo indietro, cosa è accaduto e ha sorpreso tutti o molti? È accaduto che a partire da un fatto emblematico, un giovane laureato 26enne, Mohamed Bonazzisi, che si dà fuoco a Tunisi perché è vessato dalla polizia locale, si è avuto una reazione in molti paesi del Nord Africa e del mondo arabo che nessuno di noi si aspettava. A me è ricordato, visto il richiamo che ha fatto anche il Presidente Napoletano più volte in questi giorni al risorgimento per parlare delle vicende arabe, le 5 giornate di Milano dove tutto partì da un aumento del prezzo dei sigari, cioè un intreccio fra questioni materiali e questioni anche di popolazioni giovani, colte, che chiedono la libertà. Ci ha sorpreso perché? Perché noi eravamo abituati a pensare che in quei mondi questi movimenti fossero soltanto dei movimenti fondamentalisti e religiosi. Non mancano fenomeni di questo tipo e bisogna monitorarli, per esempio sicuramente per quello che riguarda l'Egitto un indicatore della direzione che prenderà questa rivoluzione è l'atteggiamento di tolleranza che ci sarà o meno. Se in Egitto l'intolleranza verso i copti continua vuol dire che ci sono... E richietrate su El Baradei appunto dai fondamentalisti. Esatto, quindi non è un fenomeno scontato, può prendere varie direzioni e devo dire nella nostra opinione pubblica questo fenomeno è stato guardato con indifferenza, questo bisogna dirlo onestamente. Il Partito Democratico credo sia l'unico partito, a parte un sit-in dei radicali che ha organizzato una manifestazione in solidarietà con questi giovani popolazioni che chiedono libertà, ma non era una manifestazione di massa, è stata fatta al Pantri, non c'erano poche centinaia di persone, sono state fatte iniziative in giro per l'Italia, io ho partecipato a un'iniziativa a Pisa, non c'era la sensibilità dell'opinione pubblica, noi non abbiamo capito quello che stava succedendo lì, non siamo stati in sintonia. Al tempo stesso, in questo sono d'accordo con De Michelis, quello che sta accadendo lì è importantissimo per noi, perché se nel mondo arabo regimi, diciamo che sicuramente non sono dei regimi democratici, vengono in qualche maniera incalzati, cambia il vento, arrivano generazioni nuove, arriva la democrazia, arriva la libertà, è un vantaggio per tutti noi. Dopodiché è ovvio, ci sono gli interessi, bene, ci sono anche i sensi di colpa, noi in Libia ne abbiamo qualcuno, io ricordo che l'Italia per anni ha vietato ridicolmente un film sul leone del deserto che vedeva l'impresa coloniale in Libia con gli occhi dei libici, ma gli interessi, i sensi di colpa che sempre ci sono in queste occasioni non devono attenuare una scelta di fondo. In quel momento, forse anche qualche giorno fa, ma oggi ha maggior di più, ha maggior ragione, quando le truppe di un regime dittatoriale minacciano e aggrediscono popolazioni e insorti che chiedono libertà, io penso che l'Europa, la comunità internazionale e anche l'Italia non possa sbagliare. Migliore, d'accordo con quello che ha detto Realacci? Guardi, io posso essere tranquillamente tra quelli che non hanno mai avuto nessuna vicinanza con i regimi che in questi mesi sono stati spazzati via dal Nord Africa, né quello tunisino che è stato per lungo tempo uno dei campi più accoglienti dell'intervento occidentale, né quello egiziano che pure ha avuto una funzione di presidio rispetto ad alcuni allarmi rispetto al fondamentalismo, né rispetto a Gheddafi che nel corso degli ultimi anni è stato praticamente riverito il baciamano di Berlusconi a Gheddafi, io credo non si possa così facilmente dimenticare. E questa domanda di libertà e di democrazia, noi come Sinistra Ecologia e Libertà, tanti altri nel movimento di solidarietà civici e sociali lo hanno accolto in tempi non sospetti, quando erano perseguitati e non solamente quando si è riuscito a dare una risposta reale alla esigenza di cambiamento. Proprio per questo mi sento di dire che l'intervento tardivo dell'autorità internazionale in Libia potrebbe proporre un'escalation molto preoccupante, questo devo dire, vorrei che ci fosse più realismo. La situazione che si sta determinando non è l'applicazione integrale della risoluzione 1973 delle Nazioni Unite, che prevede alcuni dispositivi tra i quali quelli delle sanzioni economiche e anche dell'intervento politico per determinare un cessato e un fuoco, il cessato e il fuoco e anche la ripresa dei contatti diplomatici tra le parti. È una imposizione attraverso lo strumento militare che probabilmente non può essere fermata semplicemente come talvolta si è già detto ai interventi chirurgici, perché in questo momento sono sotto la possibilità dell'attacco anche popolazioni civili a Tripoli e ci sono una serie e in altre assirte, insomma in altre realtà di quel paese e ci sono gravissime preoccupazioni su quale debba essere la conseguenza di questo attacco. Lo voglio dire con grande chiarezza, non si può pensare di fare due parti in commedia, da una parte quello di dire io proteggo gli insorti, cosa che ovviamente vada fatta anche prima e dall'altra costruire con un intervento di forze di interposizione delle Nazioni Unite, cosa che sarebbe stata possibile nel momento in cui Gheddafi era più isolato all'interno della sua area protetta e aprendo subito il canale diplomatico della mediazione. Quello che sta accadendo in questo momento invece è un attacco che come ha detto Sarkozy ieri dovrà essere portato fino alle estreme conseguenze, cioè fino all'intervento di terra, cioè anche in violazione con la risoluzione delle Nazioni Unite. Barack Obama non è d'accordo, però mi scusi, la questione qual è? Che noi prima De Michelis citava giustamente il caso della Somalia, la Somalia ha visto un intervento proprio delle Nazioni Unite e la condizione attuale della Somalia che vede un'assenza di qualsiasi sovranità statuale, che vede la perpetuazione di atti di violenza inaudita nei confronti delle popolazioni civili, dovrebbe portare ad una maggiore capacità di riflessione. Anche in quel caso le Nazioni Unite intervennero militarmente. Oggi la situazione qual è? C'è per caso una condizione di maggiore protezione delle popolazioni civili e per lo Yemen, per esempio, dove ci sono stati nei giorni scorsi decine e decine di morti perché sono stati uccisi i manifestanti. Qual è l'iniziativa che la comunità internazionale intende porre in essere? Quella di fare anche lì un intervento militare? Io sono veramente preoccupato perché anche questa ripresa di autorevolezza delle Nazioni Unite e di stamattina la presa di posizione di 3-4 ore fa delle Acina rispetto a questi attacchi che considera anche eccessivi rispetto al mandato che è stato dato dal Consiglio di Sicurezza. Io penso che debbano portarci ad una seria riflessione. La guerra che si sta scatenando nel Mediterraneo e in prossimità delle nostre coste risolverà il problema della protezione dei civili oppure lo risolverà. Questo io credo sia la domanda da farsi ed è per questo motivo che un entusiasmo militarista per risolvere una questione come questa francamente mi trova in grande dissenso. Vengo dal professor Paganetto per sapere se è solo entusiasmo militarista o c'è altro dietro. Bianco, lei che ne pensa? Io ho proprio entusiasmo militarista non direi. Se c'è un motivo per il quale l'intervento militare di ieri era divenuto inevitabile è stato proprio il tentennamento, ma non di alcuni Gianni, come diceva Gianni Di Michelis, ma dell'intera comunità internazionale. Come comincia questa vicenda? Nel momento in cui il Presidente Obama, convinto di poter ottenere udienza nello stesso modo in cui era capitato con Mubarak ad esempio, intima lo sfratto a Gheddafi, tutti si aspettavano un atteggiamento più morbido da parte del... Si parlava di esilio, si parlava di... Invece Gheddafi, altro tipo di personaggio, è certamente più svincolato che non Mubarak o Ben Ali, da legami con l'Occidente, sebbene fosse stato, diceva giustamente migliore, riverito, ma da tutti i leader occidentali, dagli Stati Uniti, dai francesi, dagli inglesi, da tutti, senza distinzione di caso. Quella posizione ha via via fatto precipitare la situazione rendendo per un verso inevitabile l'attacco che abbiamo visto oggi e rendendolo più difficile perché una imposizione di no-fly zone è un atto militare completo. Non si può pensare di dire, di sventolare una bandierina, non volate aerei libici, bisogna impedirglielo. Questo implica la distruzione della contraerea libica e quello che stiamo vedendo in questi giorni. Quando è arrivata la decisione poi di muoversi con la no-fly zone, ormai Gheddafi era arrivato a Benghazi, aveva riconquistato il territorio, aveva anche riconquistato pur forzosamente l'attenzione delle tribù che gli erano prima ostili. Quindi la situazione è più dura e più difficile. Tutti vedono che ci sono gli scudi umani attorno ai palazzi del potere libico. Quindi stiamo entrando in una fase di vero e proprio conflitto, non della intimazione con protezione militare, diciamo così, di un consiglio di lascia perdere. Quindi è un'altra diversa situazione. Dobbiamo prepararci al fatto che sarà un conflitto. Naturalmente la sproporzione di forze è sotto gli occhi di tutti. Non credo che Gheddafi abbia molta possibilità di resistenza rispetto al potenziale di fuoco occidentale, ma la situazione semplice non è. Da questo è nata la lunga esitazione occidentale. Negli Stati Uniti il Presidente Obama era sconsigliato su un intervento che avrebbe comportato, lui l'ha detto ancora ieri, noi non siamo per l'occupazione del territorio libico, ma non sappiamo che cosa succederà. Ha detto anche il Presidente Obama ci metteremo pochi giorni. E mi è venuta in mente una frase di Colin Powell quando ci fu la guerra del 2003 e disse quando sento i politici parlare di operazioni chirurgiche di breve momento mi si rizzano i capelli in testa. Perché è così? Cioè è bene che tutti comprendiamo l'effettiva dinamica. Per quanto riguarda la posizione di Sarkozy, che è stato il più attivo nella promozione di questo intervento, come lei ha ricordato giustamente, ha detto andremo fino in fondo. Ora, il fino in fondo secondo me significa una sola cosa, eliminare Gheddafi, il contrario di quello che ieri ha detto Obama. Obama ha detto noi non siamo lì per far cadere il regime di Gheddafi, siamo lì perché ce l'hanno chiesto le popolazioni in sorte. Ma questo confine non può essere non esaminato attentamente perché se non si elimina Gheddafi, e Gheddafi sarà una mina vagante, un pericoloso e inferocito nemico dell'Occidente, in particolare della frontiera europea dall'indomani. Quindi non riesco a vedere in questa dinamica se non questo esito. E a questo punto è inevitabile che sia così e speriamo che sia così perché se non è così avremmo creato un disastro nel Mediterraneo. Professor Paganetto, giustamente un attimo fa Migliore ci ricordava un altro caso, lo Yemen, dove ci sono morti, sparatorie, governo contro popolazione, ma lo Yemen non ha petrolio. A essere maliziosi poi sovente si indovina, diceva un politico che l'onorevole De Michelis conosce bene. Lei pensa che l'intervento sia frutto soprattutto dell'interesse economico che riveste la Libia? Certamente questo è un aspetto che c'è e c'è tutto, ma io non credo che sia solo questo, visto che c'è stato un movimento di rivolta nei paesi del Nord Africa che certamente è importante e cambia il panorama che noi abbiamo di fronte. In fondo non è che l'Egitto abbia queste grandi riserve di petrolio, anche se c'è del gas, eppure è stata seguita con molta attenzione, con molta determinazione. Per altri motivi, geopolitici. Geopolitici, esattamente. E quindi il quadro è tale che la Libia sia pure con differenza, non può non essere assimilata a quello che è il contesto complessivo di quello che sta succedendo nel Nord Africa. Perché? Io credo che sono state fatte delle differenze, si è detto giustamente nel caso dell'Egitto c'è una classe media, borghese, che si è affermata, che esprime una volontà di cambiamento. Questo succede, sia pure partendo da una rivolta per il pane anche in Tunisia. In Libia questo non accade. Ma io credo che questo è una maniera un po' dogmatica di ragionare, perché se andiamo a guardare, anche in Libia accade che perlomeno una parte del paese, la Cirenaica in particolare, esprime una volontà di mettersi su una strada diversa, anche se poi la motivazione può essere qui legata alla disponibilità del petrolio, che sappiamo è proprio in quell'area. Allora nasce, se non capisco male, una propensione di quella parte del paese a dire ma per quale motivo queste risorse che noi abbiamo dobbiamo metterle a disposizione di un dittatore il quale ce ne dà solo le briciole? Perché il problema della divisione della rendita petrolifera all'interno del paese credo che sia un fatto importante. Ed è un fatto che è inciso sulla evoluzione della situazione politica in Libia negli ultimi anni. Non dimentichiamo che lo stesso figlio di Gaddafi ha proposto dei cambiamenti riguardo a questi aspetti, riguardo alla politica. Ci sono stati diversi movimenti in questa direzione. E questo è molto importante perché significa che guardare solo agli interessi esterni, che pure ci sono, perché non dimentichiamo che ci sono degli interessi non tanto verso gli attuali giocimenti del petrolio, quanto verso la possibilità di trivellazioni offshore, cioè nel mare. Ed è qui che, visto il cambiamento che c'è stato e un altro aspetto che va tenuto presente nella disponibilità delle riserve petrolifere ai paesi che sono inventate nazionali, mentre le multinazionali del petrolio non hanno più la titolarità in generale delle riserve che stanno nel suolo di ciascun paese, c'è un interesse verso quelle che sono le risorse offshore dove conta la tecnologia, oltre che contare la presenza di imprese che hanno la capacità di gestire problemi complessi. E non dimentichiamo che nell'area c'è. Ma io credo che il problema interno che ho citato c'è tutto. Quindi la reazione verso un dittatore che ha responsabilità grave, perché non dimentichiamo che poi il fatto di Lockerbie è rimasto così, tra parentesi sembra quasi un fatto lontano, ma è stato un fatto straordinariamente importante nella nostra storia e anche nel modo di valutare il comportamento del Raiz. Allora io credo che l'intervento, seppure... La Gran Bretagna ha restituito l'attentatore di Lockerbie sostenendo che era molto malato ed è guarito improvvisamente quando è sceso a Tripoli. Ma poi Lockerbie è prima dei baciamano. Sì, questo direi che va tutto bene, ci sono comportamenti... È da 42 anni che Gheddafi è una minaccia alla libertà e anche alla democrazia del Mediterraneo. Chiudo, professore, che ho il break pubblicitario. Io credo che questo è indubbiamente comportamenti diversi da parte di paesi diversi, ma non c'è dubbio che noi ci troviamo di fronte a una situazione che per un verso è di rivolta interna, anche se diversa dalle altre, e di interessi certo esterni, ma io credo che in fondo non possa non dimenticarsi che qui c'è un quadro in cui la Libia si va a collocare come paese del Nord Africa in cui sta cambiando un contesto, in cui c'è certamente da fare i conti con un'area che vuole qualcosa di diverso da quello che aveva prima. Pubblicità, ritorniamo fra un istante. Allora, nessun aggiornamento dalla Libia, ce n'è uno invece dal Giappone dove sta salendo nuovamente la pressione nel reattore numero 3 e i tecnici non escludono la necessità di un rilascio di vapore in una nube che sarebbe radioattiva. Queste le ultimissime notizie. Io riprendo da lei, onorevole De Micheli, si ha sentito che cosa diceva il professor Paganetto? Petrolio certamente, ma non solo. L'Italia ha avuto una posizione che è cambiata nel corso della crisi libica prima di grande prudenza e poi di solidarietà internazionale rispetto alla scelta dell'intervento anche militare contro Gheddafi. Ieri però l'onorevole Casini, leader dell'Udc, ha detto una cosa, come dire, franca e che suscita qualche, come dire, qualche pensiero. Francia e Gran Bretagna stanno rubando, rischiano di rubare con la loro politica forte nei confronti della Libia e non solo, un ruolo da protagonisti nel Mediterraneo. È così? Sicuramente nell'atteggiamento sia di Francia che di Gran Bretagna c'è l'idea di tornare a prima del 1956, cioè prima della ricicurata avventura di Suez che ha cambiato gli equilibri geopolitici in tutto il Mediterraneo mettendo al centro gli Stati Uniti e non più le due potenze coloniali che l'avevano fatta da padrone fino a quel momento. Quindi non c'è il minimo dubbio, quando io ho visto Cameron passeggiare in piazza Tarir mi è venuto subito in mente l'evocazione del ritorno a prima del 1956. Questo però, tra virgolette, è comprensibile, legittimo, dovevamo aspettarcelo. Il problema riguarda il comportamento dell'Italia. Io, tra l'altro, l'Italia all'inizio non è stata esitante perché il ministro Frattini un certo giorno è andato, credo un mercoledì, alla Camera e ha detto che la nostra posizione è chiara, Gheddafi se ne deve andare. Punto. Il Presidente del Consiglio fu abbastanza più prudente, se lei ricorda la famosa mancata telefonata per non disturbare. Avvenne dopo, il giorno stesso di questa dichiarazione di Frattini in Parlamento il Presidente Obama telefonò a Berlusconi e Berlusconi anche lui si allineò. Io non giudico il fatto che ci siano state incertezze prima perché io stesso, per esempio, non dico che avevo previsto, non avevo previsto niente non avevo capito, come quasi tutti, il problema è che quando succedono le cose che tu legittimamente non prevedi perché non hai la sfera di cristallo da quel momento in poi però devi ragionare su queste cose che stanno succedendo devi saperle interpretare, devi saperle giudicare, devi decidere da che parte stai. L'Italia ha deciso, secondo me giustamente, di stare da una certa parte ecco dopo, dopo, nelle tre settimane io ho visto un'esitazione e ripeto cosa si sarebbe potuto e dovuto fare questo l'ho detto pubblicamente e privatamente l'ho detto in una trasmissione televisiva addirittura all'inizio cioè io avrei visto, ha voluto vedere l'Italia riconoscere per prima il comitato di Bengasi punto, riconoscerlo per prima, scegliendo con chiarezza quello non comportava rischi, non comportava scelte come si può dire di intervento militare come adesso dobbiamo fare e così via e l'ha fatto la Francia prima di noi punto, allora la Francia si può discutere sulle ragioni non nobili o pelose per cui Sarkozy deve recuperare gli errori commessi in Tunisia eccetera eccetera, può essere, però l'ha fatta punto, questo non costava niente, io avrei voluto vedere l'Italia lo dico di più, allora esiste una comunità libica in Italia che non è grandissima io ne ho sentito alcuni esponenti come credo che anche il Ministero degli Esteri li avrà sentiti anche il Ministero degli Interni li avrà sentiti e questi qua stanno tutti dalla parte del comitato di Bengasi di più, come sappiamo tutti, anche in Tripolitania solo usando la forza a Zauiwa e in altri posti sono stati spianati i cosiddetti ribelli noi abbiamo visto un atteggiamento del grosso della stampa italiana cito un articolo di Rampoldi di Repubblica che è uscito ieri, basta leggerlo e guardarlo che sono stati tutti quanti, come si può dire per ragioni chi di politica interna chi di politica generale, eccetera molto, molto, come si può dire non precisi nel raccontare e nel farci No, il filo di Rampoldi è molto preciso e tra l'altro indica anche una soluzione Vengo da lei, Bianco faccio finire De Michele, se arrivo No, no, non è assolutamente il filo che c'è Non è assolutamente il filo che c'è Certo che l'ho letto e lo condivido quindi assolutamente anti Gheddafi No, non è così Prego De Michele, sono Bianco che vuole intervenire Finisco No, finisco subito Quindi da questo punto di vista soprattutto in momenti delicati come questi e soprattutto tenendo conto di due cose una dell'importanza della Libia per noi che non è una cosa di ragionare sulla base di un'ottica ristretta dell'interesse nazionale nostro ma è semplicemente quello di considerare quanto importante è per noi la Libia più di quanto non lo sia per la Francia o per l'Inghilterra o per gli Stati Uniti d'America o per altri paesi anche del mondo arabo E seconda cosa qual è il messaggio che diamo a quella che io considero irreversibilmente ormai la Libia di domani cioè io non ho dubbi su quello che succederà nel corso delle prossime settimane o addirittura dei prossimi mesi perché ricordo qual è successo a Saddam Hussein e ne ricordo cosa è successo a Milosevic per fare due esempi Le altre non fly zone non è caso le altre non fly zone Nel caso di Milosevic l'Italia partecipò a una vera e propria azione militare non fly zone bombardando ci sono ancora a Belgrado gli edifici bombardati dagli aerei della Nato che partivano da basi italiane credo addirittura come ho letto tra le righe su qualche libro addirittura bombardati da aerei italiani punto quindi da questo punto di vista noi dobbiamo sapere con quale Libia di domani avremo a che fare e visto ripeto che abbiamo degli interessi generali e specifici in ballo e un comportamento come si vuole dire più deciso da adesso in poi da adesso in poi perché siamo ancora in tempo io credo che sarebbe bene che il paese lo tenesse Bianco qualche ritardo ma non c'è il ritardo innanzitutto l'Italia è stato il primo paese ad aprire un canale con il comitato che si trova a Benghazi anche il primo ad arrivarci con aiuti vari il presidente Sarkozy ha come dire scelto la strada della boutade spettacolare perché tutti sanno che si riconoscono gli stati non i comitati provvisori ma no un momento quindi non c'è una differenza tant'è vero che è stato l'unico a fare un getto di questo genere quindi era più una questione verbale poi la questione di cui stiamo discutendo non è con chi stare chi è che può dire io sono contro la democratizzazione del Nord Africa e sono a favore di un feroce dittatore non è questa la questione non è qui il punto la questione è comprendere quando si agisce nei confronti di una situazione come questa quali sono effettivamente gli obiettivi con quali mezzi abbiamo già detto che i tempi sono stati sfavorevoli adesso dobbiamo comprendere bene qual è la dinamica questo fa un qualsiasi consorzio internazionale serio bisogna sapere che cosa si fa altrimenti siamo nel buio altrimenti ci possiamo come dire pacificare con noi stessi dicendo siamo tutti per gli insorti democratici ma non stiamo affrontando da un punto di vista politico la situazione questo lo dico perché è più facile è più popolare è più catturante consenso dire sto dalla parte giusta ma il problema non è questo il problema è comprendere come agire ora è iniziata una secondo me un escalation e deve andare in una certa determinata direzione altrimenti noi non avremo quello che dice e auspica Gianni De Michelis cioè una nuova Libia avremo non lo sappiamo che cosa una situazione immaginate che cosa sarebbe se Gheddafi rimanesse magari dimediato al suo posto magari la Libia divisa in due ma vi rendete allora bisogna sapere qual è l'obiettivo prego quale sarà l'evoluzione futura però voglio dire una cosa con molta nettezza c'è un realismo nella politica che tiene conto degli interessi che tiene conto anche diciamo di qual è la situazione dei singoli stati noi come paese abbiamo avuto rapporti nel passato con le dittature comuniste dell'est perché ci faceva comodo per la Russia e con altri la Cina quando ha represso nel sangue a Tiananmen la rivolta degli studenti ha avuto sì qualche timide reazione internazionale ma nessuno è passato per la mente di dire ingerenza umanitaria in Cina e potrei fare molti altri esempi però quando c'è una situazione diversa quando abbiamo dei movimenti reali sul campo delle alternative possibili in un'area in cui noi siamo stati sempre naturalmente portati negli ultimi anni a sostenere dittature come male minore perché questa è la verità alla fine della fiera perché Gheddafi era diventato un pupillo dell'Occidente al di là degli estremi dei baciamano che sono vergognosi e al di là anche degli imbarazzi della primora perché io ricordo benissimo la frase di Berlusconi vergognosa quando ha detto che lui non telefonava a Gheddafi mentre era in corso la rivolta per non disturbarlo e non ho capito cioè di cosa doveva disturbare volete sostenere che l'Italia è il manutengolo di una no sostengo quello che ho detto sostengo che c'è stato imbarazzo all'inizio perché quella famosa battuta sul non chiamare Gheddafi per non disturbarlo mentre Gheddafi stava organizzando la repressione di una rivolta popolare non era una frase accettabile però detto questo c'era una situazione sul campo diversa lì abbiamo un paese in cui il 60% della popolazione ha meno di 30 anni c'è un livello di alfabetizzazione di istruzione in questi paesi del Nord Africa altissimo in alcuni di questi paesi c'è un numero laureati superiore a quello che c'è in Italia abbiamo popoli che spingono questi popoli che spingono hanno un interlocutore internazionale ovviamente in sede ONU in sede europea ma anche nel nostro paese o no? Ma mi faccia essere malizioso e chiedere la cosa che diceva migliore prima però perché per la Libia sia ad esempio e per lo Yemen dove però la protesta è di qualità ancora diversa naturalmente siamo solo alla protesta di piazza c'è il Yemen c'è il Bahrain c'è la cosa c'è quello che e l'Arabia Saudita sappiamo che è una situazione complicatissima da molti punti di vista ma perché qui c'era un'alternativa reale in campo cioè qui non è che c'erano le proteste perché se dovessimo intervenire quello sì sarebbe un atto a esportare la democrazia in tutti i posti in cui c'erano non sarebbe possibile ma lì c'erano e lo si vede per televisione cioè noi quando vediamo quegli insorti per televisione vediamo veramente delle scene da risorgimento per così dire perché sono approssimativi sono improvvisati non vediamo in azione dei corpi militari vediamo un popolo che sta cercando di riconquistare la propria libertà io penso che in queste occasioni i rischi che sono enormi la gravità dell'azione militare che è enorme sono in ogni caso meglio dell'indifferenza perché il male peggiore è l'indifferenza soprattutto quando è furba migliore guardi io sono sono completamente convinto che ci debba essere anche un cambio di strategia radicale nella politica internazionale cioè passare da quella che è stata sempre la realpolitik delle diplomazie tra stati ad una capacità di intervento che metta al centro gli interessi anche umanitari per fare questo ci deve essere una logica lo stesso Re Alacci prima diceva noi non ce ne siamo accorti quindi non capisco adesso come faccio a dire che in Yemen non ci sia la stessa maturità di un'alternativa c'è perché io per esempio ho parlato con persone che vengono dallo Yemen che mi dicono e che sono tra l'altro rappresentanti sono rappresentanti anche del governo italiano perché lavorano con la cooperazione in Yemen che c'è una capacità anche di ricostruzione di un paese che così come tutti quelli di quell'area è dominato da dittature vere e proprie la questione fondamentale è il rischio fondamentalista che per esempio c'è nell'Arabia Saudita che in questo momento vede al capo un'oligarchia e un paese sostanzialmente tutto sotto la dominazione di questa autorità io quello che voglio dire rispetto alla Libia è esattamente quello che diceva Bianco qui c'è un escalation in atto io penso che il problema sia questo non c'è più la questione di quale debba essere la difesa degli interessi degli insorti perché in questo momento la difesa degli interessi degli insorti metterebbe al primo posto il fatto di poter considerare un processo di cessate il fuoco e di liberazione vera su quel territorio di quelle energie che ci sono state voglio ricordare che l'Egitto voglio ricordare che l'Egitto ieri ha dato una grandissima prova di maturità democratica perché è vero che ci sono con il referendum costituzionale con una partecipazione larghissima e isolando di fatto le forze fondamentaliste io penso che questo atteggiamento di escalation porti come diceva De Micheli ad altri esempi come quello di Saddam e dell'Iraq in Iraq ci sono ancora le truppe di occupazione la catastrofe umanitaria è stata quella di centinaia e centinaia di migliaia di civili uccisi dagli interventi militari per liberarli dal dittatore la proporzione che è uno degli elementi fondamentali del diritto internazionale tra l'intervento e l'effetto che vuole ottenere è una delle guide che dovrebbe essere in testa dei paesi che hanno l'interesse che hanno l'interesse senti l'imposizione della non fly zone è esattamente quello che ha detto Bianco l'intervento in escalation e l'occupazione militare su questa cosa su questa cosa la prudenza anche del presidente Obama che pure in questo momento è a capo di un intervento militare secondo me è meno cinica dell'atteggiamento di Sarkozy che in questo momento ha grandi difficoltà interne dal punto di vista della sua credibilità per quello che ha fatto in Tunisia perché non si può derubricare quello che è successo l'intervento della Francia in questi termini è dovuto esattamente a questa sorta di risarcimento nei confronti dell'opinione pubblica francese e per il fatto che è in caduta libera nei sondaggi elettorali ora io penso che sia sbagliato in ogni caso non è malizia pensare che la Germania non sia intervenuta per motivi elettorali? No assolutamente io penso che anche la Germania sta facendo un conto di questo genere mi meraviglio che l'Italia non faccia una riflessione seria sul suo ruolo perché l'Italia anche nel periodo della prima repubblica aveva ben altro ruolo nel Mediterraneo perché mentre c'è stata la crisi di Suez e quindi il confronto militare c'è un altro scenario internazionale però è durante la prima repubblica però l'Italia si è sempre distinta come forza di mediazione di intervento che avesse la capacità per esempio nello scenario medio orientale di Israele e Palestina di proporre dei legami e dei tavoli di trattativa quello che accade oggi è che non si riflette e che non si riflette non è vero che non ha senso non è vero che non ha senso chi dice che non ha senso in questo momento dice che vuole andare a costi di diciamo uccidere tante persone civili che sono di ogni parte perché i civili possono stare a Bengasi quanto a Tripoli non fa quello che invece secondo me oggi è assolutamente indispensabile non lo fa non lo fa perché io non capisco io non capisco realandovi perché tu sia più realista del re la questione è come si previene l'escalation oppure tu vuoi l'escalation perché se vuoi l'escalation lo devi dire l'iniziativa 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 io questo voglio fare l'iniziativa per tutelare per tutelare le popolazioni civili deve essere quella anche adesso di tentare così come prevede la risoluzione delle Nazioni Unite un cessato il fuoco contemporaneo allora si è fatto un attacco si è fatto un attacco fino ad oggi domani che cosa si fa si ripropone il tema del cessato il fuoco che è Davi o no perché se noi parliamo di cose che non lo so se vogliamo fare propagandose questo strategismo militare lo scopro adesso ma non è strategismo se che Davi avesse cessato il fuoco e si fosse fermato gli attacchi si sono già stati le difese antiaeree ma si era fermato gli attacchi sono già stati fatti le difese antiaeree sono state messe in discussione ora che fai dici come dice Obama o come dice soprattutto la risoluzione delle Nazioni Unite non intervengo sul campo o dici io intervengo sul campo perché quello che è la conseguenza necessaria è lo smantellamento di qualsiasi infrastruttura politica allora il problema è quello che fai domani non intervieni sul campo e allora bisogna fermarsi e cercare una soluzione di domani ma ci fermiamo mentre abbiamo evitato che Gheddafi massacrasse i rivoltosi a Benghazi come ha fatto l'altra parte l'Italia tra l'altro dovrebbe avere più prudenza essendo la nazione coloniale che è intervenuta oggi ma perché è una cosa che ti dà ricordare che noi siamo stati a ripresa l'ho detto io prima il primo intervento che ho fatto ho ricordato questo non diciamo fra di noi lì c'è un problema materiale l'hanno visto tutti nell'indifferenza dell'opinione pubblica italiana nell'indifferenza dell'opinione pubblica italiana una popolazione giovane che combatteva per la libertà veniva massacrata da un dittatore è divertente vedere la posizione di Selle uguale a quella della Lega che dà l'idea e la Lega ha paura degli immigrati è un'altra cosa ancora la Lega sostiene questo perché ritiene che non ci possa essere un'accoglienza dei profughi io vorrei che si parlasse invece dell'accoglienza dei profughi e non dei clandestini profughi e non clandestini che sono in questo momento a Lampedusa adesso affrontiamo tutti questi temi professore Casini ha ragione Francia e Gran Bretagna vogliono cambiare gli equilibri naturalmente prima ancora che politici perché economici nel Mediterraneo cioè modificare sostanzialmente quest'area geografica fondamentale io ritengo che è interessante vedere oltre la posizione della Francia e della Gran Bretagna la posizione della Germania perché non dimentichiamoci che la Germania si è stenuta ed è molto importante valutare perché ma io credo che motivi elettorali dicono si vota ma io ho appena sentito questa motivazione che è stata portata qui come ragione principale io ho l'impressione che sono gli interessi complessivi del sviluppo della Germania che la porta ad andare verso l'est piuttosto che verso il Mediterraneo a determinare una riluttanza in principio occuparsi del Mediterraneo soprattutto se poi ci sono interessi elettorali cioè a dire è una concausa quella di dire ci sono immediatamente dei problemi elettorali ma nella sostanza lo sviluppo che la Germania sta facendo in questi ultimi anni è legata alla capacità di espansione verso l'ex area dell'est e della Russia chiaro che da questo punto di vista per quale motivo la Germania si deve mettere in una situazione in cui può procurarsi difficoltà quando i suoi interessi stanno da un'altra parte da questo punto di vista suggerisco anche un'interpretazione che potrebbe essere di qualche interesse che non necessariamente l'atteggiamento della Lega sia sostanzialmente collegato soltanto al tema degli immigrati ma potrebbe essere anche collegato all'idea che la Lega da tempo sostiene di una economia del nord che si associa a quella tedesca e dell'area dell'est che è un modo di pensare lo sviluppo economico italiano io ho l'impressione che viceversa è un nostro preciso interesse e in questo sono d'accordo con De Michelis a fare una politica euro-mediterranea tanto più che le tentativi che sono state fatte fino a oggi sono tentativi che hanno abortito cioè l'Europa non è riuscita a mettere in piedi una vera concreta politica per il Mediterraneo anche perché ci sono queste differenze di atteggiamento tra diversi paesi ma dal nostro punto di vista è estremamente importante io credo invece andare in una direzione diversa perché è là che noi possiamo determinare un processo di sviluppo che tra l'altro potrebbe incorporare il mezzogiorno cosa di non poca importanza per quanto riguarda quello che succederà domani quindi io ho l'impressione che da questo punto di vista si veda anche un aspetto di politica economica che è sullo sfondo ma non tanto importante anche nelle scelte di paesi e anche in questo caso i partiti politici che interpretano naturalmente gli interessi delle aree a cui loro prevalentemente fanno riferimento sto parlando della Lega allora intanto una buona notizia da Tokyo vi avevo detto prima che saliva la pressione i tecnici hanno detto che la pressione si è di nuovo stabilizzata e non sono più programmate almeno per il momento rilasci controllati di vapore Bianco però è spuntato il problema il problema politico il problema politico dell'astenzione del silenzio della Lega sull'operazione si è sempre detto che la politica dovrebbe essere politica estera dovrebbe essere bipartisan in tutti i grandi paesi beh in questo caso lo è stato e mica tanto perché se una concorrente della maggioranza non è bipartisan ma non c'è la maggioranza però senza un pezzo di maggioranza è singolare io sulla posizione della Lega sarei un po' più cauto qualcuno ieri l'ha paragonato alla posizione di rifondazione quando ricordiamo tutti durante il governo Prodi fu poi uno degli elementi scatenanti io ricordo che la prima volta che il governo fu costretto a cedere il passo era proprio sulla politica estera io non credo che la Lega scusa fammi finire no siccome io ero capogruppo di rifondazione li ricordo che noi abbiamo votato la crisi di febbraio del governo Prodi era su quello guardi che lei veramente non ricorda io ricordo D'Alema che era ministro degli esteri che era guardi non se lo ricorda perché noi abbiamo votato le missioni militari e all'epoca erano in un preciso mandato internazionale benissimo per cui almeno dica le cose come stanno no io ho detto che è stato paragonato lo ha fatto Enrico Letta alla posizione di rifondazione comunista non mi sembra che sia la stessa cosa mi sembra che la Lega rifletta le che non era un attimo un attimo prego Bianco dibattiamo di questo ancora a lungo ha sempre avuto su queste questioni anche al tempo di Milosevic eccetera alcune cautele non credo che questo si ripercuoterà sull'equilibrio di maggioranza non mi sembra mandare una delegazione lo so lo hanno fatto però bisogna capire se questo incide sulla politica della maggioranza fino a prova contraria non mi sembra che incida sulla politica della maggioranza però non vai farsi in caso della Turchia nonostante le proteste di Borghezio l'Italia è stata a favore della Turchia in Europa poi voglio dire per tornare al discorso di prima qui non ci sono stati tentennamenti italiani i tentennamenti sono stati salvo diciamo l'oltransismo di Sarkozy personale anche un leader che di solito si spende molto anche in altre occasioni tutti ricordano quando ci fu la crisi di Gaza Sarkozy mandò una nave in acque egiziane che dovette tornare indietro era stato un gesto diciamo unilaterale quindi nulla da stupirsi però tutta la comunità internazionale ha tentennato perché torno a dire se vogliamo dare una spiegazione alle cose che non sia né ideologica né di schieramento perché tutti hanno tentato di valutare quali erano gli obiettivi e questo è il punto importante quando si dice come tutti hanno detto che Daffi ha perso legittimità se ne deve andare bisogna avere anche una vaga idea di che cosa ci sarà dopo e quindi come comportarsi con chi muoversi aiutare gli insorti avrebbero dovuto cominciare prima come sono operazioni che durano mesi non sono operazioni che si risolvono in 4-4-8 quindi io credo che i lunghi tentenamenti a cominciare dagli Stati Uniti tuttora non sono chiari diciamo così i movimenti e gli obiettivi nascano da questo genere di considerazioni che non sono peregrine pubblicità e torniamo a parlare della Lega allora Reala ci parlavamo prima della necessità che le grandi scelte di politica internazionale come è stata sicuramente questa di prendere parte alla coalizione dei volenterosi pronti a offrire o basi o armi per l'intervento in Libia sarebbe opportuno che fossero bipartisan cioè con una unione di tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché impegnano il Paese in un'operazione all'esterno fuori questo non è accaduto non è accaduto perché c'è stata l'astenzione di Italia dei Valori che poi ha cambiato ha cambiato idea ieri sera Di Pietro proprio a Inonda non vuol dire unanime no no bipartisan non vuol dire unanime sicuramente però con il consenso ecco con il consenso se non con l'approvazione però c'è stata sicuramente lo smarcamento della Lega sì per parte quanto sono condivise noi per esempio siamo stati assolutamente contrari alla guerra in Iraq perché la ritenevamo una scelta sbagliata e quindi non si poteva chiedere un atteggiamento in quel caso bipartisan in questo caso nell'ambito di un mandato internazionale noi pensiamo che il male minore sia cercare di difendere quelli che si battono per la libertà con la misura che sarà necessaria evitando che vengano massacrati da un regime che chiaramente ha mezzi e forze assolutamente differenti da quelle degli insorti questa è la cosa elementare io mi metto onestamente dalla parte di quei giovani che lì combattono per il proprio futuro e vogliono un futuro migliore e vedo positivamente per il nostro paese il fatto che nel mondo arabo ci siano fermenti di questo tipo che non siamo costretti a difendere dittature per evitare guai peggiori dopodiché per quello che riguarda il centrodestra c'è il problema della Lega adesso il professor Paganetto giustamente evocava anche scenari diciamo più sofisticati e fondati sulla diciamo propensione a ragionare più in termini di centro Europa che non di Mediterraneo io penso che lì continuano anche altre cose già in passato la Lega aveva preso posizioni per esempio a favore di Minosevic in Serbia e conta il fatto che lo spettro dei profughi agghiacci l'elettorato leghista però qui non sarà semplice come non è semplice per gli abitanti di Lampedusa reggere all'arrivo di un flusso di profughi che per ora è molto limitato ma se pensiamo a quanto accade in altre aree non lo dica però ai cittadini di Lampedusa che è limitato ho detto comprendo ho appena detto che stiamo parlando di alcune migliaia di persone quanti ne sono andati in Tunisia dalla Libia in questo periodo cioè noi abbiamo paesi più poveri di noi che reggono delle immagini drammatiche di quei campi appunto reggono dei flussi diciamo purtroppo per questo le guerre anche sono orribili perché c'è sofferenza perché c'è morte perché c'è dolore perché ci sono cose di questa natura allora noi dobbiamo sapere che se questo accadrà l'Europa in generale l'Italia in particolare deve fare la sua parte come vorremmo che la facessero altri se noi ci trovassimo in situazioni di questo tipo qui c'è un problema di responsabilità di paese di un grande paese e io penso che l'Italia all'indomani dei 150 anni in unità d'Italia deve ricordarsi anche di essere un grande paese civile la Lega credo che reagisca anche perché la preoccupazione elettorale di breve periodo la fa cavalcare con più facilità diciamo lo spettro dei milioni di profughi che arrivano anziché ragionare in termini di solidarietà con quelli che ci sono intorno De Michelis problema politico o no? o ha ragione si possono citare molti esempi ne cito uno per tutti quello dell'adesione della Turchia all'Europa su cui il governo nel corso di tutti questi anni ha tenuto una posizione precisissima il governo cosiddetto di centrodestra ha tenuto una posizione precisissima anche Berlusconi personalmente come si è speso nel rapporto con Erdogan e così via è giusto e nel corso di tutti questi anni la Lega ha sempre tenuto una posizione diversa senza che per questo il governo come si vuole dire oscillasse l'ha fatto soprattutto per ragioni di politica interna diciamo per solleticare la pancia al proprio elettorato o a una parte del proprio elettorato quindi questo di per sé non sarebbe preoccupato naturalmente il problema maggiore è diverso però se c'è un voto in Parlamento è diverso nel senso che se ci fosse un voto in Parlamento ovviamente succederebbe quello che è successo appunto nel caso del governo Prodi che cadde su queste cose che poi nacque un altro governo con l'appoggio di Mastella e Cossiga l'ha spiegato Bovedino finché è stato in vita che questo cambio di governo è stato fatto proprio per rendere possibile l'intervento militare della Nato in Serbia succedono queste cose io mi auguro che non succeda anche se credo che in qualche maniera il governo dovrà affrontare il problema complessivo della propria politica diciamola euro-mediterranea perché questa ripeto secondo me ma credo che poi risulterà evidente a tutti offrirà l'Italia e l'Europa un'occasione straordinaria per fare una scelta come si può dire in cui prevale la convergenza rispetto alla divergenza e da questo punto di vista anche all'elettorato della Lega si potrà spiegare che questa possibilità di questo nuovo rapporto nel Mediterraneo avrà anche l'effetto di ridurre il rischio dell'immigrazione clandestina perché è ovvio che una situazione destabilizzata politicamente economicamente in crisi dall'altra parte del Mediterraneo inevitabilmente porterà veramente a questo punto centinaia di migliaia di persone verso l'Europa e quindi da questo punto di vista credo che l'occasione di tutti questi avvenimenti dovrà essere quella di aprire un serio dibattito nel nostro paese non a livello dell'elitto o degli esperti ma a livello veramente dell'opinione pubblica più forte sulla opportunità che ci si offre di sfruttare diciamo così una situazione favorevole e l'opportunità che per prenderla questa per prendere questa opportunità la necessità di fare una politica conseguente ottenendo anche dall'Europa che per esempio la Germania che appunto non a caso in questa situazione si è comportata in modo molto esitante in qualche maniera distratto cambi da questa posizione perché è ovvio che senza la Germania non ci sarà mai una politica europea euro-mediterranea io esito in questo momento a parlare di Europa perché questa è la massima evidenza di come il processo politico di integrazione non stia funzionando e l'iniziativa di Sarkozy la spacca l'Europa da questo punto di vista io vorrei che però tutti fossero richiamati in Italia alle responsabilità dell'Italia l'Italia è al centro del Mediterraneo se ha responsabilità nel favorire processi democratici come io ho sempre auspicato ripeto anche in tempi nei quali altri invece privilegiavano i rapporti con i dittatori a questo punto deve avere la stessa responsabilità per accogliere i profughi per accogliere i profughi e non le ondate di migrazione di clandestini perché in questo caso si sta scappando da guerre se ci sono delle guerre in corso e sono guerre in corso in Afghanistan piuttosto che in Iraq piuttosto che in Centrafrica piuttosto che in Libia noi dobbiamo avere la responsabilità di attivare un processo di accoglienza che insieme agli altri paesi europei determini delle condizioni umane per queste persone proprio per questo motivo la politica sì prego posso dire una cosa cito un esempio di un episodio che ho vissuto l'Albania 20 anni fa io ricordo benissimo la difficoltà dalla difficoltà che avemmo quelli del governo di allora quando arrivò nella metà agosto del 1991 una nave la Volora che portò 20.000 albanesi un colpo solo dall'Albania all'Italia quella volta noi prendemmo due decisioni la prima fu di rispedirli tutti con un ponte aereo in una settimana rispedimmo 20.000 persone in Albania e al tempo stesso di avviare una azione costosissima di supporto alla realtà albanese consentendogli la transizione che si chiamò Operazione Pellicano che è stata probabilmente l'operazione di maggior successo di tutti i paesi europei di aiuto alle situazioni traballanti nei paesi che uscivano dal comunismo e questa operazione ha consentito l'avvio dell'Albania attuale la questione la strada è quella cioè tu non puoi accettare decine di migliaia o centinaia di migliaia di persone su questo la Lega ha ragione e al tempo stesso devi farti carico dell'aiuto lì e del consolidamento lì che la questione è praticare ma questa è una politica già avviata da parte del governo italiano no non è vero la politica che ha avviato con la Libia all'Italia è quella di aver utilizzato Gheddafi come il carceriere dei migranti nel deserto così come denunciato da tutte le organizzazioni umanitarie il fatto che il lavoro sporco contro i migranti sia stato affidato a Gheddafi con un patto esplicito tra il governo italiano e Gheddafi stesso è una cosa sotto l'evidenza di tutti tant'è che è all'origine del rapporto privilegiato recente che esiste tra il governo di centrodestra e quello che ancora è una presenza non è il controllo dell'immigrazione clandestina perché sono stati mandati a morire migliaia di persone nei campi di detenzione e bisogna andare a vedere perché se uno si occupa di politica estera deve andare a vedere anche i rapporti delle organizzazioni internazionali che fanno un monitoraggio su come vengono trattati gli immigrati in Libia detto questo io voglio solo aggiungere una cosa noi dobbiamo avere una politica euro-mediterranea e allora bisognerebbe imporre all'Europa di accogliere la Turchia non solamente essere favorevoli avere la possibilità di avere la possibilità di accogliere l'autorità nazionale palestinese e Israele come osservatori nell'Unione Europea ma questo comporta molte responsabilità insisto anche quella di avere una politica favorevole nei confronti di quelli che in questo momento scappano perché se scappano in centinaia di migliaia verso la Tunisia e ce ne sono alcune migliaia che premono verso l'Italia è evidente che noi non possiamo ignorare che la Tunisia li accoglie e l'Italia invece li ributta in mare perché questa è una cosa francamente intollerabile dal punto di vista di un paese moderno è voluto e anche che si dice democratico anche Maroni non dice che noi dobbiamo respingere dice che questo dovrebbe essere condiviso a tutta l'Europa che è abbastanza logico sentiamo il professor Paganetto Paganetto prego io vorrei far notare che su tutte le questioni di cui stiamo discutendo c'è un problema che abbiamo poco affrontato che è quello dell'informazione perché le informazioni sono poche e contraddittorie sia riguardo alle vicende belliche che hanno preceduto l'intervento militare che riguardo anche questa storia del potenziale di profughi perché intanto c'è un'osservazione da fare che riguarda la tipologia di coloro che si stanno spostando tra la Libia l'Egitto perché cercano di fuggire da questa situazione questi largamente non sono certamente libici sono largamente degli addetti ai servizi che nella Libia non sono prestati dai libici tant'è che in Libia c'è un 30% abbondante di disoccupazione giovanile che non presta questa attività allora che vuol dire anche qualche decina di miliardi di cinesi c'è in Libia appunto e ci sono soprattutto delle diciamo ci sono soprattutto delle presenze che sono dell'Africa subsahariana allora tutti questi non hanno pare o non mostrano avere una propensione a spostarsi verso il nostro paese ma spostano verso i confini qualcuno tornando al loro paese qualcun altro cercando di tornare al paese di origine ma allora io mi chiedo se non si avrebbe bene ragionare un po' di fatti e di numeri perché qui si sono accavallati numeri singolari perché francamente parlare di milioni poi di centinaia di migliaia di profughi mi pare qualcosa che sta fuori di quello che stiamo osservando tanto più che quelli che oggi si vogliono spostare non sono esattamente quelli che appartengono a quel paese che sono cittadini di quel paese i quali probabilmente hanno interesse a stare nel paese perché non dimentichiamoci tra l'altro che la Libia come reddito medio ha un reddito medio piuttosto elevato e quindi il problema è di distribuzione di quel reddito tra i cittadini piuttosto che del livello di vita e come torno a dire la questione della rendita petrolifera la distribuzione dei vantaggi è un fatto fondamentale in quel paese ma allora io credo che noi dovremmo mettere in piedi un ragionamento che riguarda quella che il nostro atteggiamento nei confronti di questa ondata di profughi che naturalmente se sono profughi vanno accolti non vanno accolti necessariamente a Lampedusa perché Lampedusa sì ma poi vanno spostati dall'altra parte perché i cittadini di Lampedusa hanno perfettamente ragione nel dire che è insopportabile il numero dei profughi che è pari alla popolazione locale ma per quale motivo non troviamo la maniera di prendere questi che non sono centinaia di migliaia ma sono forse un paio di migliaia che possono tranquillamente essere ospitati naturalmente qui si deve far carica alla collettività certamente europea ma intanto italiana in vista di quando l'Europa poi deciderà di mettere in piedi visto che fa l'azione militare è anche un'azione conseguente sul piano dei rapporti e infine attenzione perché questa mitica questione dell'immigrazione è una questione che va affrontata anche con uno spirito che abbia grande attenzione perché nel nord-est c'è la gran parte di quelli che lavorano nelle piccole imprese del nord-est che sono immigrati non solo ma vi cito un interessante studio che è stato fatto di un demografo il quale dice oggi ci si preoccupa molto nel Mediterraneo di questa forte migrazione ma questo continuerà a esserci secondo i calcoli che vengono fatti considerata la bassa natalità europea per 20-30 anni tra 20-30 anni probabilmente saranno gli europei a chiedere di avere degli immigrati che non saranno più disposti a spostarsi perché nel frattempo i rapporti demografici si saranno modificati allora io credo che questa visione di breve periodo di brevissimo periodo sia una visione che andrebbe un attimo portata l'attenzione informare io credo che informazione significa democrazia questo vale in questo caso vale anche devo dire nel caso del nucleare magari ne parliamo dopo ne parliamo dopo di nucleare due notizie arrivo bianco due notizie una arriva che arrivano entrambe dalla Libia cominciano a arrivare le prime la Libia decise non cooperare più con l'Unione Europea nella sua lotta contro l'immigrazione clandestina la Libia ha affermato un responsabile della sicurezza secondo quanto riferito alla televisione ufficiale di Tripoli appunto non si ritiene più responsabile dell'immigrazione clandestina se l'Europa non sostiene e ignora il ruolo attivo della Libia nella lotta contro l'immigrazione come garante di stabilità in Africa del Nord e in qualsiasi altra zona nell'Africa la Libia sarà obbligata a cessare la sua lotta contro l'immigrazione clandestina per impedire a milioni di migranti neri di dirigere verso l'Europa questo ha affermato neri ha aggiunto neri un funzionario messaggio per bossi e poi c'è un bilancio il primo bilancio che arriva da Tripoli dei bombardamenti 48 persone sono morte 150 sono rimaste ferite nei bombardamenti occidentali contro il regime di Gheddafi iniziati ieri nell'ambito dell'operazione Odissea all'Alba e quanto ha riferito una fonte ufficiale libica 48 persone sono morte 26 a Tripoli ha confermato la fonte precisando che si data soltanto di un bilancio provvisorio Immigrazione? Io voglio aggiungere qualche breve considerazione alle cose sensate che diceva il professor Paganetto certamente la questione dell'immigrazione va vista con un occhio lungo e non tanto succederà nel prossimo numero di longitud della rivista che dirigo c'è uno studio su questi flussi immigratori e un'analisi di un economista che non vi anticipo ma il cui succo è che alla fine in realtà la catena migratoria comincia a trasmettere delle curiose informazioni poiché i posti di lavoro diminuiscono proprio nelle mete privilegiate di questa migrazione cioè in particolare l'Europa quindi qualcosa si modificherà questo su un lungo periodo però noi qua abbiamo di fronte un problema di emergenza e non si può secondo me invocare giustamente la nascita di una vera politica euro-mediterranea in particolare dopo questo cambiamento tumultuoso di tutta la sponda sud del Mediterraneo e poi sostenere che la questione dell'affrontare il problema dei profughi mentre ci sono guerre disordini eccetera debba essere una questione italiana perché se politica euro-mediterranea deve essere organizzata così la posizione italiana è stata questa per il resto io concordo con quello che diceva Gianni Di Michelis rievocando la storia albanese e tra l'altro sottolineando che è esattamente esattamente la posizione anche attuale italiana perché l'idea di riformulare anche quando ci saranno nuovi governi che ci auguriamo tutti siano governi democratici di formulare una sorta di grande trattato intra-mediterraneo per la stabilità dell'area che riguarda noi europei e riguarda la sfonda sud io credo che sarà indispensabile perché l'idea che si tratta di avere un atteggiamento di compassionevole umanitarismo che tutti abbiamo nei confronti di coloro che scappano da guerre carestie e quant'altro non è l'atteggiamento politico per trovare una soluzione ragionevole di un problema che ripeto riguarda tutta l'Europa la convince a relacci il ragionamento appena svolto da Pia Luisa Bianco non è che non è non è sufficiente è chiaro che tener fede ai nostri doveri quando ci sono delle popolazioni che fuggono da una guerra noi abbiamo dei doveri che sono preliminari tener fede ai nostri doveri non significa sviluppare una politica per il futuro la politica del futuro è fatta di tante cose di capire come evolve la demografia lo ricordava il professor Paganetto nel nord est se non ci fossero dei lavoratori qualificati perché poi anche noi facciamo le cose facciamo cose che nelle altre parti del mondo non si sanno fare anche perché i lavoratori extracomunitari che sono in Italia si qualificano e hanno diritti perché con gli schiavi non si producono cose belle in nessuna parte del mondo se non avessimo quel tipo di presenza in tanti campi l'Italia non sarebbe in grado di essere competitiva economicamente quindi c'è un interesse nazionale c'è un dovere che è quello di far fronte a delle emergenze che hanno queste caratteristiche e poi c'è una politica è chiaro che ci auguriamo quanto prima di avere degli interlocutori nella sponda sud del Mediterraneo per ragionare di tutti questi temi ma anche di sviluppo io vorrei dire solo una cosa rispetto alla cosa che diceva Paganetto rispetto all'atteggiamento della Germania la Germania è vero ha una trazione diciamo che è chiaramente più spostata verso però non è che non ha idee su cosa fare il Mediterraneo per esempio la Germania spinge in maniera formidabile per un piano di straordinario interesse in cui finora l'Italia è poco presente che si chiama Desertec cos'è Desertec? Desertec è un'operazione favorita da fondi europei per investire tra i 300 e i 400 miliardi di euro nel solare termico nella sponda sud del Mediterraneo perché in quelle aree hai grandi spazi hai più sole per ovvi motivi e poi col calore che avanza dalla produzione di energia elettrica che può essere portata in parte anche in Europa di salare l'acqua del mare è un piano di straordinario interesse industriale competitivo di amicizia tra i popoli noi siamo per ora poco presenti e se si ricominciasse da lì per così dire come da altre cose credo che i rapporti con questi paesi sarebbero migliori e anche il ragionamento su sviluppo flussi migratori potrebbe essere impostato in maniera più longimirante De Michaelis com'è stata l'impostazione del governo per affrontare del governo le cose che ha detto la Pia Luisa e per adesso francamente adesso capiamo tutti gli slogan sul tenere fuori questi che arrivano questo è compito della maggioranza frenarli De Michaelis sulle parole ma gli slogan devono essere sempre tenuti a freno guardate che dura io credo che c'è un tempo breve e un tempo medio lungo nel tempo breve è inevitabile che ci sia da parte di chi governa come si può dire un'azione che cerca di coinvolgere l'Europa maggiormente nella gestione di questi problemi così come Pantelleria o Lampedusa protestano perché sono in prima linea e naturalmente chiedono in questo caso all'Italia che in qualche maniera di venire alleviati in uno sforzo che per loro è eccessivo quindi da questo punto di vista non mi stupisce naturalmente sono cose molto difficili molto delicate ho citato l'esempio perché lì l'ho vissuto in prima persona del caso dell'Albania vent'anni fa perché prendere per esempio la decisione di rispedire ventimila persone con un ponte aereo in tre giorni da Bari all'Albania è stata una decisione molto difficile da prendere quindi mi rendo conto che non sono cose facili e al tempo stesso sono cose inevitabili in quel momento non pensavamo di essere come si può dire incivili ma dove li rispedisci in Libia la questione è anche io non voglio polemizzare perché quella è un'altra fase storica poi c'è stata anche una grande accoglienza di albanesi e di profughi in Puglia durante le guerre dei Balcani ma dove li rispediamo in Libia in Libia in questo momento c'è la guerra mi rendo conto non sto dicendo di rispedirli in Libia direi che nel decidere nel prendere le decisioni rispetto a queste situazioni dovremo tener conto di tutto e naturalmente da questo punto di vista io avrei per questa ragione dico avrei voluto un atteggiamento più deciso avrei voluto l'Italia sopra Tarkozy e prima di Sarkozy nell'unica direzione possibile anche a questi fini che è quella di chiudere per prima possibile la partita con Gheddafi e realizzare in Libia una situazione di maggior stabilità che è l'unica possibile attraverso la vittoria dei cosiddetti ribelli e così via punto e naturalmente di nuovo capisco che è facilissimo dire queste cose non avendo la responsabilità di stare al governo quindi me ne rendo conto benissimo quindi non voglio arrivare a questo punto qui però la direzione di marcia può essere solo questa e alla fine visto che c'è un interesse come si può dire complessivo e anche si potrebbe argomentare molto sul fatto che questa è probabilmente l'unica strada non solo per l'Italia ma per l'Europa per uscire in avanti dalla crisi economica che sta in qualche modo attanagliando il grosso dei paesi europei e quindi la scelta euro-mediterranea è anche la scelta giusta per reagire alla crisi diciamo così e da questo punto di vista tutti i comportamenti dovrebbero avere una stella polare che secondo me è questa e così via Paganetto per una battuta e poi ho migliore rapidissimamente prego io volevo legarmi a questo discorso della politica euro-mediterranea e di quello che diceva a quello che diceva Re Alacci su Desertec perché queste sono due cose che vanno insieme cioè dire se si vuole pensare una politica verso questi paesi che non si risolva semplicemente nell'andare a partecipare all'estrazione del petrolio e con ciò favorendo situazioni come quelle che poi si sono innestate ma guardando allo sviluppo di quei paesi questo tema è importantissimo perché è vero che la Germania ha un grande interesse in quella direzione e si sta attivando come anche la Francia peraltro ma è anche vero che guarda un po' l'Italia ha le migliori tecnologie in questo settore l'Enea ha prodotto una tecnologia sul solare termodinamico che è leader nel mondo e aggiungo che la Germania tanto è interessata a questo tema che è andata a comprarsi le licenze proprio qui in Italia e allora io credo che qui si vede che cosa noi possiamo fare o potremmo fare per fare una politica euro-mediterranea che non sia la riproduzione del passato che sia quel discorso che portava avanti De Michelis cioè un progetto in cui l'Europa faccia di attivare le forze di cambiamento che ci sono e credo che questo si può fare se non pretendiamo soltanto di vendere qualcosa oppure di estrarre qualcosa ma vogliamo anche cooperare a che per esempio nel caso d'energia si produca energia come a Budabi o altrove per fare i dissalatori solari e questo è nell'interesse di questi paesi oltre che nostro Ho un debito con migliore ma subito dopo la pubblicità fra poco Allora di nuovo in studio con una notizia che arriva da Tripoli l'equipaggio di un rimorcatore ad alture italiano è stato trattenuto nel porto di Tripoli da uomini armati lo apprende l'agenzia ANSA da fonti qualificate secondo le quali le persone a bordo sono otto italiani due indiani e un cittadino dell'Ucraina prego migliore parlavamo di ma io credo che anche rispetto a quest'ultima notizia bisogna innanzitutto avere uno spirito di protezione delle popolazioni civili e dei civili e quindi tenere sempre aperto il tavolo sempre aperto il tavolo rispetto al quale si possa anche scegliere da parte dell'autorità in questo momento del dittatore Gheddafi di aprire una trattativa l'escalation insisto è quella che mi preoccupa di più perché in questo momento se c'è una comunità internazionale responsabile bisogna sapere che quello che sta portando un intervento militare è l'intervento sul campo dopodiché io credo che esista sempre una buona politica da portare avanti ci sono anche nella risoluzione dell'ONU insisto delle buone politiche che vanno portate avanti e queste dovrebbero essere rispettate allo stesso modo di chi ritiene che invece quello sia solo un mandato a colpire e io credo che la soluzione politica le pratiche che in questo momento possono mettere in atto il cessato del fuoco che per esempio chiede l'unione dei paesi africani è un atto indispensabile di responsabilità anche in questo caso mi faccio solo dire una cosa sulle politiche e sulle buone politiche di cooperazione mediterraneo bisognerebbe spiegare al governo che c'è l'intervento della Germania per promuovere il solare perché intanto in Italia viene tagliata il sovvenzionamento alla ricerca e all'energia solare nonostante siamo tra i primi per la produzione sia di tecnologie sia di interventi fattivi sul campo perché per esempio voglio solo ricordare che come coordinatore delle regioni euro-mediterranee contro la desertificazione e per la risorsa della gestione dell'acqua c'è Nichi Vendola per esempio nella totale isolamento rispetto all'inazione del governo italiano Allora vi do anche un'altra notizia che non c'entra molto con questo ma ha rischiato la vita il cancelliere Angela Merkel perché un elicottero della palizia che l'aveva a bordo mercoledì scorso lo scrive la Bild Amsontag cioè che è il dominicale della Bild di oggi ha avuto entrambe le turbine bloccate a 1600 metri e hanno ripreso a funzionare ad appena 100 metri da terra insomma una brutta avventura per il cancelliere Professor Paganetto cercando di unire le notizie abbiamo dato rapidamente sul Giappone a queste cose qui nucleare in crisi per la vicenda Fukushima gas e petrolio grandi difficoltà per la vicenda libica abbiamo parlato adesso di energia solare bolletta italiana che rischia di diventare sempre più cara lei ha guidato l'Enea quindi un pochino di queste cose come dire le mastica soluzioni? ma io credo che intanto la bolletta poco dipende da fare il nucleare o meno perché noi ci troviamo di fronte a dei costi che secondo le stime degli esperti internazionali sono livellati al meglio in principio l'agenzia americana ritiene che il costo nucleare sia maggiore se si fanno tutti i costi e si calcola anche per esempio il costo dello smaltimento di impianto una volta che finisce l'attività ma anche volendo considerare una parità tra nucleare e le altre fonti non certamente dal mix delle fonti viene la riduzione delle bollette il mix delle fonti è certamente importante per altri aspetti ma credo che da questo punto di vista bisogna invece pensare a una maggiore efficienza del nostro sistema energetico a una nostra maggiore capacità di mettere in rete l'energia attraverso interconnessioni europee attenzione perché noi tante volte facciamo un ragionamento che non vogliamo importare l'energia della Francia e io francamente riesco con difficoltà a capire perché visto che la Francia ha un eccesso di produzione di energia che nasce dal fatto che come tutti sanno il nucleare ha una caratteristica strutturale cioè il nucleare produce energia nella stessa misura a qualunque giorno ora del giorno della notte e qualunque stagione dunque per definizione chi ha tutto nucleare come la Francia ha un eccesso di energia perché la notte lo può buttare via l'energia oppure la può vendere e venderla significa che c'è qualcuno che la copre e quindi noi possiamo avvantaggiarcene quindi io credo che guardare i temi dell'energia bisogna farlo con molta attenzione perché intanto vediamo quali sono i problemi nucleari dobbiamo ragionare sullo stare dentro la tecnologia perché le tecnologie delle rinnovabili le tecnologie anche nucleare quando saranno evolute anche dopo un ripensamento su queste vicende sono certamente tecnologie in cui dobbiamo stare quantomeno a livello dell'attività sperimentale perché altrimenti ci troviamo in difficoltà su quella che è la gara tecnologica che si aperte in Europa per avere tecnologia avanzata io la devo fermare perché ho solo 5 minuti un minuto per ospite Pia Luisa Bianco scelte geostrategiche avvengono soprattutto per l'energia in questo momento anche le scelte compiute nei confronti della Libia secondo me direi proprio di no io non credo che sia stato l'elemento determinante la Libia tra l'altro è una fonte petrolifera importante però direi che copre una quota di fabbisogno ridotta parlo ovviamente in generale il vero problema sarebbe se scattasse qualcosa del genere nelle rabbia saudita che invece copre un fabbisogno molto più ampio però rispetto a quel che dice il professor Paganetto sono d'accordo anch'io non si può evitare anche in prospettiva il mix delle fonti di energia si può sperare che la ricerca sulle rinnovabili produca degli effetti ma allo stato attuale sappiamo tutti che quello che può coprire nel fabbisogno globale non arriva al 20% quindi non è che c'è una fonte di energia che sostituisce permanentemente le altre si tratta sempre di bilanciare questo mix per quanto riguarda il disastro giapponese è evidente che siamo tutti preoccupati è evidente che scatta la paura collettiva sulle possibili conseguenze le radiazioni però lì va ricordato che c'è una causa che non è l'energia nucleare è stato il terremoto e quindi bisognerebbe maneggiare un po' con le molle questo problema del nucleare Realacci l'Italia ha fatto una figuraccia sulla vicenda giapponese perché siamo arrivati buon ultimi rispetto a preoccupazioni che venivano da paesi molto più nucleari di noi non avere il nucleare per noi oggi è un grande vantaggio ho visto che ieri il ministro Tremonti ha dichiarato benvenuto tra noi che in realtà se si fanno i conti di tutti i costi il nucleare costa di più lo sappiamo bene il Partito Democratico era contrario al nucleare prima di Fukushima non solo per motivi di sicurezza ma perché è una scelta vecchia costosa che all'Italia non conviene ora c'è un passaggio in settimana importante dico solo questo il governo contrariamente a quello che dice a quello che ha detto Boss e che hanno detto altri esponenti dice oggi noi faremo il nucleare solo con il consenso delle regioni e dei comuni non è vero perché il Parlamento e il governo sono chiamati ad approvare in settimana entro mercoledì un provvedimento che prevede che si possano localizzare le centrali anche contro il parere delle regioni dei comuni e delle popolazioni interessate se lo fa tutto quello che si dice sulla pausa di riflessione è una bugia e quindi sta imbrogliando gli italiani io sono sempre stato tendenzialmente a favore del nucleare naturalmente bisogna decidere su quali criteri si può prendere le decisioni una cosa è la sicurezza e ovviamente quella secondo me è il problema decisivo e quello che è avvenuto in Giappone deve farci ripensare anche se parliamo di centrali nel caso di Giappone di seconda generazione ormai siamo alla quarta generazione no siamo alla terza e mezzo la terza e mezza la terza e stiamo andando verso la quarta e comunque questa è la sicurezza poi c'è il problema dei costi e poi c'è un altro problema che guarda caso dovrebbe essere a cui tu dovresti essere sensibile che è la questione dell'ambiente della produzione di CO2 perché è vero che il 20% di rinnovabili sarebbero un passo avanti siamo tutti d'accordo di andare in questa direzione però il grosso ancora dell'energia prodotta nel mondo è progiotta con i combustibili fossili che producono CO2 che quindi creano un danno irreversibile all'ambiente e allora non si può fare la battaglia sull'ambiente dimenticandoci della trave per guardare la pagliuzza punto migliore ma nessuna centrale nucleare a fissione di prima secondo terza generazione è sicura in questo si possono ridurre i rischi ma non possono essere cancellati Fukushima così come Trimal Island così come Chernobyl in solo poco più di 30 anni hanno dimostrato come ci possono essere degli incidenti disastrosi al limite della catastrofe e io penso che l'Italia abbia tutto il vantaggio di riproporre quella che fu la scelta di 25 anni fa popolare di impedire lo sviluppo di questa tecnologia costosa e obsoleta che in questo paese invece deve essere sostituita essendo il paese del vento del sole della possibilità delle energie rinnovabili con un piano di investimento reale perché quello che non si capisce è che i 30 miliardi previsti dal governo per le centrali nucleari coprirebbero il 4% del fabbisogno energetico italiano mentre invece in questo momento il governo ha tagliato riducendo anche moltissimi posti di lavoro gli incentivi per le energie rinnovabili noi siamo per il sole il vento noi siamo per la ricerca per l'innovazione che in questo momento sono già molto avanti lo diceva prima anche Realacci c'è un'azienda italiana che è il leader nel solare termodinamico non è vero quello che sta accadendo allora grazie a tutti per il dibattito sulla Libia gli italiani e gli altri membri dell'equipaggio di quel rimorchiatore sono ancora nel porto di Tripoli grazie ci vediamo domani con il dibattito eccoci qua allora rivediamo perché ci serve ci dà qualche spunto qualche spiegazione questa questa carta inglese che ci fa vedere la situazione al suolo cosiddetta ci sono le isobre ma soprattutto ci sono dei fronti e c'è il centro dell'alta pressione come le mettiamo insieme tutto questo vediamo questa carta e cerchiamo di leggerla insieme intanto vi ricordo che l'Italia si trova qui nella parte destra in posizione sembra un po' strana un po' appesa perché vedete come come dire rappresenta una specie di pezzo di mappamondo e quindi siccome il centro è l'Inghilterra perché la carta è inglese chiaramente l'Italia si trova un pochino in periferia e quindi ha una posizione in questo modo quello che conta è che dove vedete questa H siamo proprio sull'Europa centrale c'è una zona di alta pressione di tempo stabile ma è una posizione per noi sempre un pochino scomoda perché i venti che ruotano in senso orario intorno a questa alta pressione ve l'ho indicata con questa prima freccia pescano dell'aria fredda da nord e poi gira gira la fanno arrivare sull'Italia attraverso le zone balcaniche questa linea con i triangolini e i pallini indica una perturbazione si chiamano fronti proprio perché separano due masse d'aria diverse e dietro questa linea c'è l'aria fredda che vi ho indicato con la seconda freccia che è in prossimità di arrivare sulle nostre coste adriatiche come spesso succede arriva dalle zone balcaniche alla lontana dalla Russia se volete non è aria gelida certo se fosse stato dicembre o gennaio forse la situazione sarebbe stata diversa per fortuna siamo a marzo inoltrato quindi gli effetti sono minimi vediamo intanto la previsione per la giornata di oggi in cui soltanto le zone del sud hanno un po' di questa instabilità vale a dire ci sono schiarite ci sono annuvolamenti ci può essere qualche pioggia mentre già salendo verso le zone centrali troviamo ampie zone di sereno per non dire una giornata buona e lo stesso vale per il nord con qualche nuvole in più sulle alpi occidentali possibile qualche breve pioggia così come sulla costa azzurra ma insomma è una cosa abbastanza limitata i venti previsti per la giornata di oggi diventano forti eccoli sull'adriatico centro-settentrionale quindi arrivano da nord-est forti di tramontana sul Tirreno poi vedete si incanala trova questa questa curva si incanala sullo stretto di Sicilia quindi tutti questi mari sono da molto mossi ad agitati gli altri hanno le due barrette quindi sono venti moderati e quindi i mari sono molto mossi non oltre la giornata di domani eccola qua ecco questa linea celeste sul medio adriatico perché lì più direttamente arriva quest'aria fredda significa anche se non vi ho indicato precipitazioni perché non dovrebbero essere abbondanti che c'è la possibilità che queste piogge diventino neve a quote relativamente basse io non credo sotto i 500 metri questa mattina ho fatto una stupida battuta se dovesse succedere sono io a dirvi che ho sbagliato perché sono un meteorologo non sono un politico vabbè sono quelle battute che escono così anche molti meteorologi non ammettono di aver sbagliato il giorno dopo insomma quindi ce n'è veramente per tutti però ecco i versanti idriatici hanno delle piogge mentre sulle altre zone più che qualche nuvola non c'è e a proposito di nuvole le foto delle nuvole della domenica in realtà oggi nuvole ce ne sono ben poche perché questa prima foto è un'alba siamo nell'Oman quindi insomma un paese piuttosto caldo molto bello con i colori vedete il mare la spiaggia insomma sembra veramente un quadro ci sono anche degli uccelli che stanno attraversando e l'ho messa in coppia con un'altra perché casualmente sono arrivata insieme qui già l'aspetto è un pochino più freddo se diciamo se vi da questa idea perché siamo nel cremonese anzi il luogo credo si chiami proprio cremosano e questa alba con questo sole piccolino un po' infreddolito direi fra gli alberi che sta che sta tentando di farsi strada qui qualche nuvola ci sono sono nuvole stratificate ma questo piccolo sole fra gli alberi mi sembrava interessante controapposto a quello decisamente più caldo dell'Oman questa foto ce l'ha mandata Federico lo ringraziamo così come Daniele che ci ha mandato quella sull'Oman se avete delle foto mandatele molti lo fanno c'è un po' di lista d'attesa ma prima o poi quelle che riusciamo a mandare le mandiamo bene noi ci vediamo domani alla stessa ora adesso Enrico Vaime arrivederci buongiorno c'è una parte dell'informazione che stenta a definirsi cerca un suo stile una sua collocazione occupandosi di argomenti diciamo non tradizionali cerca di scavare nei misteri di una realtà dando delle interpretazioni che possono aiutare una quasi una divinazione del futuro è un'operazione diciamo molto molto complicata che però ha un grande successo è nascosta dietro un termine esoticizzante che riscatta la porcheria che c'è alla base e cioè si parla di gossip gossip che cosa è delazione pettegolezzo chiacchiera cose abbastanza meschine però detto così con questo termine così sussiegoso gossip sembra meno sembra chissà che sia una cosa normale non lo è normale è spazzatura sono illazioni spesso fastidiose messe in giro per nuocere a qualcuno e favorire qualcun altro questo naturalmente è giustificato è giustificato avendo reso elastico un concetto che invece dovrebbe essere estremamente rigido e cioè la cosiddetta privacy la riservatezza ognuno di noi ha diritto a un rispetto per quello che riguardano delle azioni e reazioni personali che esulano dal contesto pubblico ognuno ha diritto a reagire come preferisce di fronte a una cosa che riguarda soprattutto se non esclusivamente lui ecco la privacy è diventata una specie di chewing gum si tira da una parte se si analga dall'altra tutto diventa discutibile tutto diventa argomento e questo naturalmente ha ampliato enormemente il campo del gossip quindi oggi si può parlare di chiunque e di qualunque cosa senza il pericolo di una querela o di una reazione di carattere legale ormai c'è la licenza di uccidere c'è la possibilità di dire sì sì di dire tutto di tutti poi naturalmente la sfera del privato è quella più colpita perché perché è quella più difficile da contestare se uno dice e questo si finisce per dire quello lì quel politico c'ha le corna hai voglia girare e finisce che la gente si convince che sì quel poveraccio è cornuto questo è vile estremamente vile primo perché nessuno ha diritto di entrare nella sfera privata della vita di ognuno secondo perché bisogna provare certe cose terzo perché quando si arriva per denegrare un rivale alla sfera dei sentimenti vuol dire che abbiamo toccato il fondo ecco che cos'è il gossip ecco che cos'è la stampa cosiddetta specializzata che ormai nel campo politico la fa da padrone molti sommovimenti molte scissioni molte formazioni di nuovi gruppi politici politici sono avvenuti partendo da un pettegonezzo partendo da una delazione partendo da una illazione tantissimi un fatto di corna per esempio che uno se la gioca come preferisce nella privatezza della sua casa o del suo ambiente viene portato addirittura in Parlamento ci sono dei movimenti politici che sono nati perché il marito ha messo le corna alla moglie con una politica di un'altra corrente per cui si è scissa la corrente insomma voglio dire è già complicato spiegarlo avendo rinunciato a qualsiasi forma di eleganza siamo di fronte a dei fatti talmente meschini talmente brutti talmente siamo a questo che una una rivista chiamiamola così specializzata in pettegolezzi in rivelazioni pelose rivelazioni sgradevoli ha ha insinuato il massimo che si possa insinuare bene non solo l'ha fatta franca ma addirittura ha potuto querelare la propria vittima dicendo che negando negava un'evidenza che poteva essere dimostrata da un giorno all'altro quando e come si voleva stiamo arrapicandoci su degli specchi spettacolari e che non ci portano da nessuna parte non possiamo una una fazione politica si è scissa da un'altra una parte di questi scissionisti hanno rivelato in questi proprio in questi giorni dei problemi di carattere familiare uno ha lasciato la moglie uno si è scoperto che è l'amante di una ministra un altro tutto questo perché per ragioni politiche tutto questo viene fatto perché dicendo che cosa avviene nei letti matrimoniali o meno si pensa di nuocere a questi personaggi di un personaggio politico al centro di un'attenzione inutilmente morbosa è stato detto che ci sono in giro delle fotografie che lo ritraggono in accappatoio nei corridoi di un albergo che insegue una ministra ora siamo a questo e tutto ciò viene accettato come possibile non come vero ancora non siamo a questo ma come possibile ma insomma e allora se ci fosse anche la foto del ministro o del politico infoiato che rincorre la ministra che cosa dobbiamo fare noi cosa deve fare l'opinione pubblica a chi si deve rivolgere qual è la ragione di questi di questi piccoli scandali raccontati per il gusto di far del male alla gente che significato ha non solo ma questo politico in accappatoio che insegue le ministre particolarmente avvenenti addirittura viene accusato di aver suggerito e favorito uno scuppettino da quattro soldi che sorprese un leader politico a una festa alla quale non sarebbe dovuto andare siamo a questo ragazzi questa dovrebbe essere una branca della politica ma non è meglio occuparsi di qualsiasi cosa d'altro io penso di sì per di qua a